l'amore io un po' che riusciava a combina macchina più vicina dietro di noi andiamo verso la macchina compito compito entro nell'edificio qua in questo magazzino c'è uno con l'RPG solo ho preso un portatile ho preso una cassa di munizioni al posto della telecamera attiva nemico di fronte vicino al quad nemico mi spara eccomi nemico di fronte a me preso vai vai apri una porta qua libero ok andiamo al quad andiamo subito sul punto asperate c'è roba qui c'è un c'è un vector c'è un vector qua può essere guido io? ma si può guidare? aspera c'è un po' posso usare me? sì perfetto nemico compito mi caigo c'è qualcuno controlla i morti può essere che ti droppano le informazioni white load ma già comunque c'è un ottimo veicolo scendo qui oltre uno state entrando in una zona vietata attenti veicolo arma qui guarda dove spari nemico compito con lo scudo anti-son-moss oh ecco le no no ci sono documenti nel male aspetta nemico compito mi doniamo la cassaforte ultra 1 attività in aumento vicino alla vostra state in guardia nemico compito nemico compito doppio ok lo zaino è grande ce l'ho ce l'ho a posto come cazzo mi ha preso? come mi ha preso? come mi ha preso? grande arriva una macchina picco con nemico no aspetta non ingaccia vabbè mi ingacciamo da super vado super compito 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 ma qualcuno c'ha qualche piastra ah no, ne ho trovato due vabbè ho investito qualcuno mica un problema pronti, pronti, pronti via, via, via vado sopra va vai, ci va la missione accetto ho ricevuto abbiamo 5 minuti per ucciderli che cazzo è stato me non li vedo cazzo in tempo della foresta non ci vedo cioè nel senso oh guarda a chi e io come un nemico vabbè, me non ci ha visto ma li possiamo investire se no ma non è che è il veicolo non è che è il veicolo in movimento che ho visto prima può essere a sinistra qua inizia di si ho visto il veicolo in movimento qui che cazzo era e io non l'ho detto bello è un problema di scarso come cazzo lo prendiamo prendiamo una reguta sparate, sparate non lo vedo davanti a noi mi finiamo la benzina so da su si mi spagano vai sali 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 l'ho preso copitemi mi sparano a gioco grazie mi avete salvato il culo questo si voleva far ammazzare ha visto si è buttato apposta avresti l'idea avvertitemi se lo vedete no io non lo vedo ma mi sa che si è fermato qua oh ma cazzo no cazzo ci siamo fermati no grande ci sparano fermo ecco vai 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 vedi che la regina è a sinistra si 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 oddio mamma mia ma tu sei un pazzo ecco il veicolo ma giù è rotta la macchina è rotta la macchina oh che ca... mi sa che ci sono giocatori ah granata partita il veicolo è fermo la metà che sono scoperto non rimessi il nostro UAV è in sorvolo sono scappato in al super mi sa sono qua la voce è compito e affondato mi spagano qua stanno messi qua ULTRA1 CONTRATO REVOCATO stanno qua i giocatori compito è vivo aspettatemi stanno qua sono morti? no mi sono preso tutte le munizioni cioè nel senso come che mi sa e nei silenziatori spara due grumpi dove? pinga no ha sparato la c'era uno ma l'asper l'asper qui? no facciamo un'altra oh mi rende duecento tonaline in questo figo rifer madonna ericottero nemico sopra di noi oh 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 l'asperto dove? spari dentro di un edificio mi be' mi be' sopra cassa depredata uuuu preso 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 no non cadere qua proprio però che succede? eeeh non muore sta raggando tutto a me? si pure a me perchè non esplode nell'elicottero capiamo? io tiro a sparare io me ne andrei oh che cazzo succede? no è esplodo? no c'è qui la c'è qui vai a destra vai a destra tolla poi esci esci vai a destra vai 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 dalla strada principale dobbiamo attraversare il fiume attendo al fiume vero mi che ci arriva il fiume ho detto stessi qui mi ci sono no 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 sparate destra qua dobbiamo attraversare la fiume presto presto spagate a pista coglioni a destra qua questo è l'ultimo elicottero quindi non ci stavo alcun altro e sono solo noi in mappa usciamo usciamo ci siamo prendi delle maschere se non ce l'avevo quali maschere? ottimo voglio un grande eravamo gli ultimi in mappa no ma come gli ultimi? come è morta la squadra che si è eliminata allora cosa? era morta una squadra e sono andata a punto di estrazione perché questo qua se non scappi con questo elicottero sei morto no ma l'altra squadra che stavamo inseguendo era morta poi a un certo punto da sola no quelli sono sempre morti no grazie a tutti